Vuoi una mano mamma? Sì, cara. Dottore, devo chiederle una cosa. Magari posso darle del tu? Io e sua figlia ne abbiamo già discusso. Avrei voluto chiederglielo la volta scorsa. Dimmi. Ma capisco se non mi vuole rispondere subito, eh? Ma per la parmigiana che ho cucinato la volta scorsa ho usato un 24 o un 48 mesi. Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore. Per un formaggio unico, dalle tante stagionature e senza conservanti. Da sempre. Parmigiano reggiano. Quello vero è uno solo.